Immobiliare Domus Che cantano una canzone bellissima come un pittore dei Modà, prego Ciao, semplicemente ciao, è difficile trovare parole molto serie, mi permetterò di disegnare come un pittore Fare in modo di arrivare dritto al cuore, con la forza del colore, guarda senza parlare Grazie a tutti Grazie a tutti